Signori, badde mie, benvenuti in un nuovo episodio di Soms of the Minchia Forest. Allora, dall'ultimo episodio ci siamo salutati tranquillamente con il nostro arrivo a casa, abbiamo procurato la muta, abbiamo procurato la pala, e vi faccio vedere, prima di partire, intanto che è venuto l'inverno, ma proprio, raga, ho dormito normalmente, mi sono svegliato tipo con una valanga di neve, ora me ne vai a caccia di mammut, minchia vieni, l'era glaciale. Fatto sta che ho completato il ponticello, come potete vedere, guardate che bello, così da qui possiamo noi attraversare il nostro ponte, qua mancano qualche tronchetto qua e là, poi magari col tempo ci faccio anche, tipo, delle ringhiere, e la cosa bella è che mi hanno attaccato più e più volte gli indigeni, rompendomi il cazzo, e ho scoperto che se non ho trovato lo scaffale, negli episodi precedenti, è proprio perché l'oro me l'hanno rotto, guardate come ti distruggono la casa, per cui ho pensato a rinforzare un po' tutto quello che è il nostro territorio, e stavo iniziando a costruire delle mura, il fallo l'ho messo qua, ma non di mia spontanea volontà, semplicemente mi hanno spasciato tutto, quindi devo poi organizzarmi meglio, chiudere pure questa zona qua, a cercare di fare le cose per bene, nel frattempo c'è il bro che ancora raccoglie allo stremo delle forze, noi lo sfruttiamo al meglio, ovviamente devo pure fare una bella entrata, ok, qua possiamo girare una bella entrata, che da fuori si entra da qui, come potete vedere c'è la fune, ecco qua, e siamo dentro, mentre all'interno potrei pensare di fare una scaletta normale, tipo così, bene, siccome abbiamo la pala, io vorrei raggiungere quel segnale che abbiamo lì, in teoria, grazie alla nostra torcia non sentiamo freddo, e con quella pala dobbiamo scavare in quella zona, per vedere cosa riusciamo a trovare, io spero sempre in qualcosa di veramente utile a raccogliere la legna, perché devo fare tante costruzioni in casa, ma con quest'ascia onestamente non ce la facciamo a fare granché, troppo lenta, il bro si stanca ogni due secondi, l'unica cosa purtroppo brutta è che ho perso diversi oggetti, diverse razioni di cibo più che altro, che avevo posato sugli scaffali, tipo medicine, varie cose lì, le ho perse purtroppo, e per quello voglio rinforzare, perché io ho bisogno di lasciare le cose a casa, ma ho anche bisogno di lasciarle al sicuro, quindi tocca fare protezione, varie sistemi di sicurezza, per cercare di impedire agli indigeni che attaccano, e ne ho dovuto uccidere un bel po', fortunatamente non ho lasciato tante tracce, ho dimostrato che sono più forte di loro, li ho impauriti con le loro testa impalate, davanti alle mura che non ve le ho fatte vedere, poi ve le faccio vedere, e in teoria sembra essersi recuperato una situazione di pace per il momento, nessuno mi ha attaccato da un bel po', ho calcolato che ho lavorato un bel po' di giorni, lì infatti siamo al giorno 11, ci siamo salutati se non sbaglio al giorno 7, e quindi in teoria in questa zona c'è qualcosa da... una caverna? Ma c'eravamo andati, era qualcosa da scavare, scusa, porca puttana, ma che cazzo... raga? raga? Ma dove minchia sono? Sacchi della spazzatura, ma qua ci sono persone, oh batterie, batterie, godo, attrezzi, qua posso addirittura salvare e dormire, raga ma non ci sto credendo, cosa sto vedendo? oh frecce moderne, sia per la balestra, che frecce in fibra di carbonio, libro, diversi paralleli, dove l'ho messo sto libro? dove cazzo se lo mette adesso? ma non mi dire che... non è che ti sblocca nuove robe, man mano che trovi libri, magari troviamo libri di crafting, eh, queste cose c'erano tutte, sì, ok, qua c'è tutto, vediamo se cambiamo modalità, eh, sì, in teoria, questa è tutta normale, ah, con la stampante 3D posso crearmi una maschera, io metto l'inchiostro per stampante, mi faccio la maschera, in questo modo, oddio, cosa sto vedendo? e quindi se mi metto la maschera, loro pensano che sono uno di loro? posso crearmi rampini, tessuto tecnico? ma è fantastica sta cosa, fammi vedere una roba, ma io tutte ste robe, che cazzo li metto? non è che l'ho capito, faccio lo zaino, faccio ancora il mirino, la fionda mai usata, devo vedere, ho, vedi, 8 frecce, questi sono dardi per valese, quindi c'è sia tipo un arco moderno, ok, quindi io così faccio sta roba, perfetto, allora, adesso io ho trovato questo tessuto, che non so manco, ah, ecco dove il libro, ok, ok, libro delle università, quindi, team, team leblanc, raga, team leblanc, e team di The Forest, noi abbiamo trovato un libro che parla di lui, versi paralleli, e questo tessuto, dove cazzo me l'ha messo, queste pelle di animale, eccolo, cosa posso fare con il tessuto, l'armatura tecnica, con filo, batterie, e vabbè ma, che non so se, 200 di, allora io ho 1000 ml, dove lo vedo, che io ne ho 1000, ce li ho 1000, io qua, 5, e vediamo cosa posso fare, una slitta, oddio, cosa sto vedendo, sì, ma come fa a stamparti una slitta, anche se è in miniatura, oddio, ma mi sa che l'ho finita qui, ok, ok, ma è, no raga, vabbè sta cosa è troppo, questo significa che magari molte cose che non abbiamo qui, ce le abbiamo da quest'altra parte, cioè, che non abbiamo nel crafting, ce le abbiamo in altri modi, ottenibili, poi posso farmi le frecce, la fiaschetta, raga, vediamo se ce la faccio a farmi la fiaschetta, così possiamo procurarci, acqua, qua c'è cose per stampante, eh, non ho, vediamo se ce la faccio con quello che ho, ho resina per stampante, dai che, bene o male, qualcosina l'abbiamo trovata, dovremmo farcela, a fare la fiaschetta, eccola qui, ok, i rampini, posso crearmi, cioè, vabbè, penso che le cose più importanti le ho fatte, perché la slitta è unica, le frecce non abbiamo manco l'arco, la fiaschetta ce la siamo fatti, la maschera, penso sia un modo per ingannare gli indigeni, io sparerei un bel salvataggio, no raga, questo cambia tutto, questo cambia tutto, adesso voglio solo capire un pochino, dove minchia le ha messe le cose, la maschera è qua, la slit è qua, il tessuto, ecco, è dove la fiaschetta, perfetto, minchia, no vabbè, questa cosa è fantastica, andiamo avanti, cos'è? è una mina, è tipo un robot, forse per le pulizie, scarico, e magari qua è da un po' che non ci va gente, dei soldi, un borsello, ma no, ma qua ragazzi, gente, occorre una tessera, che noi non abbiamo, quindi qui non possiamo fare nient'altro, però è sorprendentemente interessante, sta roba raga, chi se lo aspettava una roba del genere su The Forest, qua c'è traccia di, qua c'è stata gente raga, gente, cioè, non indigena, proprio gente, basta, bene, a sto punto possiamo tentare, di andare verso questo segnale, al mare, vediamo cosa riusciamo a trovare qui, eh, io sto congelando, bello, sai quale che raga, che prendi la, la torcia ed è già accesa, ho provato a scavare un po' con la palla, tra l'altro non ho trovato nemmeno una monetina raga, non ci possiamo fare sti cazzo di esplosivi, meno male che abbiamo, le granate per cui, e questo ping è in mezzo al mare, io vedo qualcosa in mare lì, e penso sia proprio il punto, che dobbiamo raggiungere, l'unico problema che ho in questo momento, è che uno è inverno, di conseguenza c'è un mare di freddo, quindi rischieremo che in acqua, proprio di congelare, squale, non penso che il gioco arrivi a un punto di realismo tale da, per gli squali principalmente sono in acque più calde, ma non so fino a che, oh, binario per pistola, così a caso, medicinale, ecco, quelli che mi avevano fottuto, i bastardi, io mi mangio un po' di carne essiccata, che ce l'abbiamo, c'ho tante cose, comunque il binario per pistola, bello, bello, ma non abbiamo la pistola, io direi, se trovassi un modo, minchia raga, mi è venuto un colpo di genio, ma non so se funziona, per raggiungere quella bohanno, ed evitare di farcela a nuoto, forse tramite questo scoglio, se riuscissi a mirare, magari tipo da qui, mi sa che devo andare a nuoto, ma non so se si stacca, se si stacca, e porca puttana qua, ci congeliamo, aspetta, aspetta un attimo, forse lo possiamo fare al ritorno, di sta roba qua, io per adesso, se riesco a fermarmi un attimo, madonna incredibile, vorrei vedere, di mettermi la muta, così almeno, riusciamo, ad arrivare più velocemente, almeno, minchia si è nuota più veloce, speriamo che non ci sono squali, perché se no la prendiamo lì, porca puttana, ma meno male che nuotiamo veloce, raga, con le pin, dio, salì, dio, mino, raga, porca puttana, ma buongiorno, ma è un'orca, non è uno squa, cos'è? Un uomo, lei come sta? Tutto bene? Oddio, c'è il cagarello qua, vabbè, abbiamo risorse per so, sto sognando, sto sognando, sto sognando, una minchia di pistola, dio mio, noi abbiamo pure il binario, e l'accessorio, mettiamo pure la torta, oddio, no vabbè, raga, sono troppo felice, e quanti colpi abbiamo di sta pistola? 46 proietti, e vabbè, raga, ma siamo a cavallo, poi qua cosa abbiamo di interessante, c'è uno spazzolino, oddio, però sti cosi mi mettono anzi, e vorrei vedere una cosa, vediamo se riusciamo a fare la pazia, porca puttana, non possiamo, siamo a nuoto, raga, che Dio ce la mandi buona, dai, 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 cazzo, non vedo un cazzo, ma sto andando sopra o sotto, oddio, ha viagniato, ha viagniato, però mi piace che abbiamo fatto le cose come i cristiani, cioè nel senso, prima abbiamo trovato il respiratore, poi la muta, di conseguenza ora, manco fatta apposta, troviamo la pistola in un punto dove la muta, possibilmente ci ha permesso di non essere sbranati, cioè, chi lo sa, d'altronde, senza questa, eravamo lentissimi a camminare qua, e abbiamo la pistola, questo ci permetterà di difenderci molto meglio, potremmo andare verso quest'altro segnale, il problema è che c'è sta neve di merda, che non aiuta, e noi non abbiamo nulla per quanto riguarda la costruzione, abbiamo ancora quest'ascia di merda, e io ho sete, adesso voglio tentare una cosa, voglio tentare, non so se funziona, però tentare, non nuoce, io vorrei creare un piccolo falò, sia per riscaldarmi, sia per cuocere un pesce, prima che mi va male, e dovrei avere io un pesce, ecco, ci sta, mettiamo un paio di banconote per fare meglio, e poi vorrei provare se con la fiaschetta, io prendo l'acqua, sempre se si può, no, pensavo che magari potevo bollire l'acqua, dentro la fiaschetta stessa, fare in modo, ma niente, però la fiaschetta in questo momento è vuota, voglio vedere se la posso riempire almeno nel fiume, e quanta acqua mi consuma bevendo la fiaschetta, questi sono dei test interessanti da fare, che ci aiutano a farci una buona gestione delle risorse, e capire un po' com'è la situation, qua ancora penso sia salata, sei bagnato e hai freddo, hai ragione, hai ragione, ok, da qui in poi penso sia dolce, io sto congelando, eccola, posso riempire la fiaschetta, perfettamente, e quindi se io adesso bevo, bisogna vedere se è finita, ah vabbè, a posto, ok, meno male che la torcia, speriamo che la fixino, comunque sta roba, perché sarebbe più realistico, mettersi al riparo, piuttosto che avere una torcia in mano, e ti asciughi, perché fondamentalmente si fa calore, ma, Dio mio, leggermente, minchia qua, immaginate ragazzi, c'è il ghiaccio, la neve, tu entri nell'acqua, che sarà a temperature bassissime, minchia qua, l'ipotermia, minchia gina in teoria, però il nostro personaggio ha un bastoncino, tra l'altro bagnatissimo, dato che siamo entrati, in mare, lea, per raggiungere, il canotto, però vabbè, insomma, speriamo che rendano l'aspetto survival, giusto, è giusto, ragazzi, capisco il gameplay, che non lo vogliono fare, troppo esagerato, però, se uno gioca a The Forest, perché comunque l'aspetto survival, ti piace, se tu di survival, non metti un minimo di difficoltà, su piccole cose, piccoli dettaglini, che comunque solo realistici possono essere, allora, davanti a noi abbiamo due zone, che io me le andrei a fare in questo episodio, allora, il primo è a destra, sopra il lago, che potremo raggiungere quel punto lì, dove probabilmente dobbiamo scavare, se è quello che avevamo trovato ai tempi, e poi davanti a noi c'è un ping viola, che è molto lontano, noi da qui ci stiamo pure allontanando molto da casa, oh, monetine, quattro monete, finalmente, vicinali, che non ne avevamo più, guarda, pallettone, peccato che non abbiamo il pompa, perché a trovare il pompa, tipo sarebbe il top, ok, spediamo sta merda, delle corde, e qua potremmo sempre rompere, vaffanculo, uccido perché mi serve l'armatura, questa cosa può sembrare una minchiata, però ci fa capire una cosa molto importante, che gli indigeni, imprigionano i mutanti, questo è un mutante, e loro lo legano qui, adesso le cose potrebbero essere due, non so se sono proprio contro i mutanti, perché magari uccidono i mutanti, ma io ho una mia idea, che secondo me raga, 100% vera, io penso che gli indigeni, che i mutanti siano indigeni, che hanno trasformato in dei laboratori, comunque esperimenti, e ne abbiamo prova con il luogo che abbiamo trovato, porca puttana qua c'è gente, io la penso così, di conseguenza, loro non sono proprio contro i mutanti, sì magari li combattono, ma non vorrebbero, perché sanno che sono persone, che un tempo appartenevano alla loro tribù, questo spiegherebbe il fatto, per cui quel mutante è legato, e non morto, potrebbe essere anche così, è una teoria, se qualcuno di voi arriva a questa parte del video, magari mi può dire anche la propria teoria, perché ci stai, sai, intripparsi su ste robe, perché ripeto, The Forest è tutta narrazione ambientale, alla fine no, l'idea di quello che succede, ce lo dobbiamo fare noi, non è scritto, guarda qua gli indigeni, ma è ghiacciato sta roba, oddio, guarda qua, ehi, non mi attaccare, porca puttana, mi sono cagato, fanno pure le imboscate, certo che trovare dei cespugli, mezzo al ghiaccio era un po', ma mi è venuto un dubbio ragazzi, io tipo volessi bere da questo lago, non posso, perché il lago è congelato, ma se io scavo, cazzo, pensavo si potesse fare, ok, dovremmo essere nella zona di ricerca, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa, sta cazzo di neve non aiuta, ah ecco, era qui, era qui, ma scusa ragazzi, è qualcosa che non va, aspetta, qua c'eravamo passati, o è un'altra zona, ma no no no, c'eravamo passati raga, e qui c'era qualcosa da scavare, non c'era di certo una caverna, ma che significa sta roba, scusa, perché ci sono caverne ora, ti vedo un cazzo, no raga, vi giuro che sta cosa non la sto capendo, fammi provare una cosa, fammi mettere la pistola, che dovrebbe avere la torcia, oh oh, dio mio, qua dove cazzo vado, certo io vorrei risparmiare, i colpi, però onestamente, la pistola è un po', una risorsa troppo preziosa, e facciamo con, ci prendiamo, no, no vabbè raga, un altro tipo laboratorio, non so come definirli, ma che cazzo devo, non lo so, cosa devo, banane, qua c'è gente, che lavorava su qualcosa, che non so che cosa, super strana sta roba, raga, una freccia, quest'uomo è stato, preso a frecciate, c'è stato ucciso, ma da chi? la nota, chiudi sta, spegni sta cosa, questa cos'è, dice una zona, un artefatto, parla di un artefatto, qua c'è della carne, ancora fresca, e di sta cosa, mi preoccuperei, stica che sta cosa, è più recente, di quanto sembra, tutte le persone, coinvolte in questo massacro, raga, sono tutte, tutti minatori, non è un caso sta roba, non è gente a caso, è tutta persona, che era in, persone che erano, incaricate, di trovare quel materiale, non è che per non fare, scoprire questi laboratori, chiunque veniva qui, a cercare di, di, insomma, di scavare in queste zone, veniva, veniva ucciso, qua purtroppo per noi, mi sa che non c'è nient'altro, in ogni caso, presi a frecciate, qualcosa mi dice che, non c'è, sono frecce moderne, sono dei cacciatori, più avanzati, non è l'indigeno di torno, ma io andrei su quest'altro ping, già che ci siamo, e poi ci salutiamo, aspetta che qua trovare, io l'ho partito con lo scopo di, trovare una minchia di hash, farebbero anche che stiamo trovando, un mare di risorse, eccoli qua, da una parte, mi farebbe tanto comodo, oh cazzo, questi mi stanno attaccando, da una parte mi farebbe molto comodo, addio mio, ma ci sono loro in base, non posso, non posso, poi si crea un casino, se sono io a invadere i loro spazi, fin quando difendo il mio territorio, posso lasciare il messaggio semplice, ma, la tomba è qua, scavare qui, scaviamo, che cazzo, oddio, c'è un atomo, io sono un uomo felice, raga, che tra l'altro, se abbiamo un altro telo, lasciamo pure qua, no, non abbiamo un altro telo, quindi un paio di cazzo, vabbè, ma sì, ma volendo anche se, non si troviamo dei ripari, tanto i telli si vanno a trovare, perché vorrei provare un'altra cosa, prima di salutarci, vorrei provare una roba, che potrebbe essere molto interessante, allora, intanto, facciamo un cazzo di rifugio, anzi, sai che ti dico, dormiamo, che magari con un po' di culo, non è più inverno, vediamo se possiamo cucinare qualcosina, ecco, abbiamo le, le tre, tre pezzi di carne, che avevamo trovato, qui nel laboratorio, che abbiamo dormito in pace, riaccendiamo il falò, e beviamo, mentre che ci siamo, stanno provando a colpirmi, da questa parte qua, c'era il loro villaggio, più o meno, vediamo se riesco, a intrufolarmi, male che vada, facciamo una mini strage, ehi, no, non voglio attaccarti, me ne vado, 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 vedete raga, intanto ci sono moltissime persone, che questa cosa, non sapendola, basta difendersi un po', guardate, io vi dimostrerò, che adesso lui se ne andrà, non reagire, fa capire a loro, che noi non abbiamo, brutte intenzioni, siamo semplicemente, per i cazzi nostri, ci siamo trovati lì per caso, loro devono solo sapere questo, di noi, gli indigeni, che noi siamo lì per caso, vedi lui in teoria, non vuole uccidermi, semplicemente, tutti gli accampamenti, tutti gli accampamenti, che noi troviamo in giro, sono, di proprietà loro, per loro, capisci, quindi, vedi lui, in questo momento, perché io non mi sto allontanando, non sto uccidendo niente, però lui, prima o poi smetterà, di attaccarmi, e questa cosa, il fatto che io non sto reagendo, creerà, un, una neutralità, certo, mi sta attaccando un po' troppe volte, però come vedete, non è un problema, di certo, non, non mi sta attaccando, come quando ti vogliono uccidere, però, prima di salutarci, mi ha attaccato troppe volte, il figlio di puttana, e quindi, prima di salutarci, riattaccami un'altra volta, figlio di puttana, eh, porca puttana, riattaccami di nuovo, ah, bambini in merda, fa culo, madonna, sì, sono pazzo, va bene, sono completamente pazzo ormai, ormai è finita per me, vivere qua, in questo paese di indigeni, bastardi, senza nessuna risorsa, senza niente, sì, mi ha traumatizzato, non so più che cazzo devo fare, va bene, ah, un villaggio di indigeni, no, e loro si vogliono tenere tutto per loro, certo, non viene fotte un cazzo di noi, che patiamo la fame, levati dai coglioni, eh, cazzo vuoi da me, hai paura, c'è qualcun altro, eh, tu, forse che sembri più grosso degli altri, cazzo scappi, tu bastardo di merda, me ne frega, eh, come cazzo ti permetti, fallo di nuovo, fallo di nuovo, sei coglione, pure lo scoiattolo, è colpevole dei suoi peccati, allora comunque se ho fatto tutto questo è semplicemente perché ho salvato prima e quindi ora non risalvo, signori noi ci vediamo nel prossimo episodio dove proveremo ancora a scoprire robe, a esplorare e cose varie, ciao bene via!